Mamma mia, che luce schifosa Qui c'è uno scudo corporeo, livello 1 Arriva gente Dove? Da me, da qua, da water, verso water raga Vogliamo ingaggiare o... Io... Ci hanno noctane raga Sono la sola, sono la sinistra, sono la sinistra La... la bengalore sta in viola La bengalore l'ho meltata raga, 161 la bengalore Prova ad andare Fatta io Non ha più l'armor, loctane Ho finito uno con la granata Morta Che traccata la bengalore, madonna mia Me le portano per cheating Proviamo ad andare a terrazza Niente che si spara repulsor Oh qua c'è uno Prontizio? Sì sì Magari da solo Io vado aggressivo Però guarda la mia testa No c'è anche un hunter Ok allora sono bengalore hunter Occhio se fanno ultimate smoker Ma una l'hanno usata Eccolo Ho distrutto, ho distrutto Uno e danno l'altro uno di vita Danno la lunghezza della vuota Fuori un altro? Manca uno Occhio del party raga Mi manca Mi manca un tizio Dov'è? Non so ma occhio del party Venite qua C'è una batteria grande Ok Basta Vedi qua Hanno chiamato un airdrop Qua vicino a noi Zan 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 C'è un drop del gioco qua Andiamo da qua Copritemi un attimo Che lo vado a prendere Sto usando il rampino Finchè che facciata che ho preso Qui c'è un'ottica Distanza ravvicinata Raga qualcuno vola Sì li sento Quanto sono vicini? Devo usare i teleporter? A uno di vita L'ho preso L'ho preso Ce ne stava un altro dietro le te Ale Ma questo l'ho finito I loro amici mi sa che sta sparando con un altro No secondo me i loro amici sono andati Hanno già preso posizione lassù una squadra almeno Ma non ho preso la viola Ma porca vacca C'era un elmo viola l'ho lasciato indietro Quale dici? A volte si chiude da questo lato Possiamo stare qua se volete Sì ma da sotto poi C'è bello perché puoi ruotare Possiamo prendere anche l'altro Ah no c'è gente C'è gente sull'altro tetto E io non ho distrutto uno C'è l'alternator col perforacranio Midna o Ale se vi salve Qua c'è una rigatura per la wingman Oh gente gente rimani qua Non andare Ale C'è gente Non penso che sia Oh cazzo No cazzo Vieni dietro da me Vorrei prendere posizione l'altra casa raga Ce la facciamo Ma questa qui lo so io? No Dall'altra parte Ah l'ho preso Loguissimo Pazzo Ok arricolte Ale Knocato un altro Oh c'è uno qua fuori Uno qua fuori Cazzo Snocato un altro Salve Ragazzi vogliamo salire sopra Prendiamo un high ground Eh un attimo Voglio curarmi Mi sa che qualcuno arriva da qua Mi serve un attimo una mano Il viso è chiuso Bravo Ho preso qualcuno con le pente raga Da dietro Ok via 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 Andiamo a prendere Questa qui davanti Qua fuori da me Qua 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 da me sono Occhio Ale andare troppo aggressivo Un attimo che mi sto curando Si è qua dietro Armatura viola Distrutto Uno vieni Uno è down Qua uno Un caricatore leggero Armature viola ci sono? Una sopra c'è ancora Una sopra c'è ancora Una sopra c'è ancora E poi una è qua dentro Mi sa Aspetta aspetta No una è La ping Io posso andare su No 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 wait Wait È lì Ah no Che gente è qua Cazzo cazzo è qua sopra una Geniale C'è un path Il pathfinder è da solo Posso provare a mettere teleporter top se volete Datemi un attimo Io posso mettere la zi Eh no no tiene la zipline Capaccio da qua Almeno è bloccato Qua dove vuoi andare? Nel sotto? Piano terra? Piano terra Ale Dove vuoi andare? Piano terra? Qua Qua Pingala E pingala Ok Vai C'è qualcuno Non c'è nessuno Vieni Ciao Adas Capsula assistenza in arrivo Poi noi l'amo 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 shotgun L'avete l'amo shotgun Eh no 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 Qua davanti Ti push Ah c'è anche uno con un long book Non è dati Non è dati Non è dati raga Sticcata a destra la bouncala Con il start Sono stra grivi raga questi qua Tiro un Axar E sono a destra Mirate a destra Mirate a destra Va bene vai Non ci sono Non sono più dentro Non sono più dentro qua dentro Sono nell'altro edificio Non rieschiamo Non rieschiamo Metti una cosa anche sotto Appena puoi Dì me l'hanno distrutta Quelli sopra L'altro edificio Sono abbastanza noiosi Hanno messo un teleporter Qua sotto Sì 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 sono qua Uno si è tuffato giù Cosa fa questo Un pazzo Stanno pushando L'altro team top Possiamo muoverci top Se volete È il momento buono No no Stai qui Vabbè io ve lo dico Potrei mettere tipo Un'altra ultimate raga Ma non so dove Ma la devo mettere qui Perché se quelli da Da Grand Ce lo stavano Il nese Controllo la porta sotto Dommico Tra la fila Dietro Va bene Io quasi quasi Andrei proprio fuori Sai mid Non è Pazzi Stai lì tranquilli Tommi Eh ma c'ho il fade Ce l'hai l'ulti no dopo Sì 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 Ma c'ho anche il fade Quindi state tranquilli Sto tenendo il tetto eh Così almeno non ci salgono sopra Qua gente Ho uscita la zona Sto sparando, sono croccati là, sono croccati là, forse li vedo Io prenderei ground adesso là sopra, ce l'hai la zipline, ce l'hai la zipline Prendi a ground, veloce, veloce, prendi a ground Ma è sicuro che non c'è di qualcuno? Vado io, vado io, fate andare me È safe, veloci, veloci, veloci Sono là fuori, uno è là fuori e un team è qua sotto Ho riferito l'armor e la lifeline Midna copri soltanto il coso, la zipline un attimo Ho messo teleporter Secondo me c'è Pure secondo me c'è qualcuno qui comunque Sì sì sì, stai nascondendo sicuro, mina, guarda bene ovunque Non è sotto eh Sì va bene Tranquilli, tranquilli lo zeno d'oro Contate che qua noi, cioè, siamo esposti poi, per essere in safe più o meno Avete una granata da tirare all'angolo, quello lì muore No, non c'è nades La lifeline si deve muovere Qua, 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 fate fuori questo per fare una più armatura Morto? Bello Manca soltanto l'ultimo che... È qua da me? Crepa! Woohoo baby! Nice move Sticcato Bella, 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 GG GG Maker Smith, la prima in danni Il nuovo avallone Che tipo 13 punti 13 punti 3 punti Sì, lo te itunes